Benvenuti al nostro TG Sport. In apertura vogliamo fare gli auguri più sinceri a Mario Di Niro e alla moglie Antonietta Cagliella che proprio ieri hanno festeggiato presso il ristorante Coriolis le nozze d'oro tagliando il traguardo dei 50 di matrimonio. Mario è stato sempre uno sportivo avendo indossato anche la divisa arbitrale a cavallo tra gli anni 60 e 70. Tra l'altro sempre attento, una persona sempre molto attenta alla programmazione sportiva della nostra emittente. A Mario e Antonietta i figli Emiliano e Lidia vanno davvero gli auguri più affettosi da parte mia personalissima e da parte di tutta la redazione sportiva di Telemolise. Calcio di Lega Pro contro il Cerignola nonostante i buoni segnali nel primo tempo e una buona tenuta atletica, il Campobasso ha incassato la terza sconfitta in altrettante amichevoli. Di fronte agli 810 spettatori del Molinari, il Campobasso si arrende di misura al Cerignola nella terza amichevole precampionato. I pugliesi vincono grazie ad un gol di Ligi al 41esimo della ripresa, ma i rosso-blu, in particolare nella prima frazione di gioco, hanno fatto vedere delle buone cose rispetto alle precedenti uscite. Positivi l'approccio alla gara e l'atteggiamento mostrato, oltre alla buona mole di gioco prodotta, con diverse occasioni da gol create senza rischiare praticamente nulla. Braglia cambia pelle al lupo e lo schiera con il 4-3-1-2. A difendere la porta rosso-blu c'è Guadagno, esordio positivo con 45 minuti nei quali ha mostrato grande sicurezza e determinazione. Davanti a lui agiscono Pierno e Celesia sugli esterni, Mondonico e Bosisio al centro. In mezzo al campo, spazio per Serra, Scorza e Prezioso. D'Angelo opera dietro le due punte, che sono Di Nardo e Forte. Nel Cerignola, in campo dal primo minuto, Iello, giocatore che in Molise è cresciuto calcisticamente, con le maglie di Riccia e Olimpia Agnonese, prima di passare tra i professionisti. Direzione di gara affidata a Barbiero della sezione di campo basso. Parte subito bene la formazione di casa. Al secondo, Prezioso serve Di Nardo, conclusione respinta da Saracco. Forte non riesce ad impattare bene con la sfera che termina a lato. Al settimo si vede il Cerignola, con un colpo di testa di Iello, palla alta. Quattro giri di lancette più tardi, locali nuovamente pericolosi. Forte serve Di Nardo, che non inquadra lo specchio. Minuto 23, Pierno va via sulla destra e mette al centro, dove però non ci sono compagni pronti ad approfittarne. 60 secondi dopo, D'Angelo ci prova. La mira non è precisa. Il Cerignola si vede per la prima volta in fase offensiva alla mezz'ora, quando chiede il penalty per una trattenuta di Pierno su Bianchini in area. Per il direttore di gara è tutto regolare. Al quarantesimo riecco i lupi, cross di scorsa deviato da un difensore. La palla si impenna e la volée di D'Angelo viene deviata in angolo dalla difesa. Il Cerignola si salva. Con le immagini di Loreto Cerasuolo siamo nella ripresa. Braglia dà il via alla girandola di Cambi. Dal primo, tra i pali va a Forte. Celese e Prezioso lasciano il posto ad Haveri e Maldonado. Il Cerignola, che rientra dagli spogliatoi più determinato, si vede al sedicesimo. Forte blocca a terra un tiro centrale di coccia. Al ventiduesimo è di nuovo campo basso, con Forte, tiro respinto dal portiere. L'attaccante rosso-blu lascia poi il posto a spalluto. Alla mezz'ora il tecnico locale cambia ancora. Fuori Pierno e Scorza, dentro Parisi e Bigonzoni. Al trentottesimo ripartenza molisana. Di Nardo e Parisi scambiano il pallone. L'ultimo passaggio per D'Angelo è però leggermente lungo. E il numero 10 non ci arriva. Nel finale di gara arriva il gol partita del Cerignola. Minuto 41. Forte vola a deviare una conclusione ospite. E sul seguente calcio d'angolo, dopo una serie di rimpalli, Ligi è il più lesso di tutti a mettere in rete. Il campo basso esce sconfitto, ma con diverse indicazioni positive. Da domani la squadra lavorerà in vista dell'esordio ufficiale in Coppa Italia di sabato prossimo contro il Giuliano. Per il mercato, nelle scorse ore, la società del campo basso ha ufficializzato l'ingaggio di Luca Baldassin, centrocampista classe 94 che nel suo palmarès vanta esperienze con il Chievo, Padova, Catanzaro e Viterbese. Nelle ultime tre stagioni in forza al Renate. Nella giornata di ieri Baldassin ha assistito al match dei suoi compagni di squadra dalla tribuna del Molinari insieme all'infortunato Fagioli. Il campo basso è proiettato al primo impegno stagionale. Sabato prossimo, 10 agosto, trasferta sul campo del Giuliano per la partita valida come preliminare di Coppa Italia. A proposito dell'imminente stagione, prosegue incessante la campagna abbonamenti. Giacomo Lombardi, sindaco di Roccavandolfi e tifoso rosso-blu. Un bel movimento intorno a questo campo basso e soprattutto un'escalation di visibilità. Assolutamente sì, una visibilità che fa bene al nostro Molise, non solo a campo basso, in questi giorni abbiamo avuto una rilevanza nazionale e internazionale assolutamente positiva, c'è entusiasmo e lo sport è un veicolo per dire che il Molise c'è, esiste, così come il campo basso ed è una cosa bella che entusiasma tutta la nostra regione. Da qui alla prima di Coppa Italia, il 10 agosto, che cosa potrebbe accadere secondo te? Un'escalation di abbonamenti, altri acquisti, che cosa immagina il tifoso? Mi sembra che l'allenatore abbia detto in maniera chiara che c'è bisogno ancora di qualche rinforzo, quindi sono sicuro che la società farà qualche piccolo sforzo e c'è un grande bel clima, un clima di entusiasmo, di serenità, vedo tanta gente che si sta riavvicinando, tanti giovani e questo lascia ben sperare perché il campo basso calcio non è solo il simbolo del capologo di regione, ma è un simbolo della nostra regione e anche un motto di orgoglio per la nostra terra, quindi sono sicuro che ci aspettano anni veramente profiqui e ricchi di soddisfazione. Lasciatemi dire che la società sta operando bene perché sta facendo un tour in tutti i comuni molisani e quindi questo permette di riavvicinare giovani, di riavvicinare anche vecchi tifosi delusi da tanti anni di triste eccellenze e triste serie D, quindi un plauso alla società che sta andando sul territorio proprio a significare che lo sport è anche un veicolo sociale, un veicolo per avvicinare i giovani a tifare la squadra della propria città, della propria regione e a non vedere solo le grandi squadre di serie A ma proprio a vivere il territorio a 360 gradi. Inviterai Mark Consuelos a Roccamandolfi? Ma perché no, a Roccamandolfi siamo ospitali, aperti a tutti, troveremo il modo e l'occasione per invitarlo e anche qui per rafforzare questo legame che lega Roccamandolfi alla società Rosso Blu. Alessandra con il piccolo... Leonardo Leonardo rigorosamente con la maglietta Rosso Blu, lo zio Giacomo Reale e il nuovo team manager del Campobasso. Leonardo Ti stanno chiamando? Leo, guarda. Dai, si vergogna. Si vergogna un po'. Comunque, insomma, c'è un bel movimento intorno a questo Campobasso. Sì, ci sono grandi aspettative, quindi speriamo di non rimanere delusi. L'anno scorso ci hanno dato belle soddisfazioni. Vediamo quest'anno, ci sono grandi progetti. A livello di marketing, a livello commerciale, proprio di visibilità, il Campobasso sta guadagnando veramente tantissime posizioni. Assolutamente sì, buone strategie di marketing, ci stiamo facendo conoscere anche all'estero, quindi speriamo di attrarre anche tifosi da fuori, insomma. È una bella situazione. E a livello di squadra che Campobasso sta nascendo, secondo te? Beh, nuovi giocatori, magari devono ancora conoscersi meglio. Ci sono grandi aspettative, un buon mister, quindi speriamo bene, insomma. Poi non bisogna aspettare molto. Il 10 agosto la Coppa Italia, il 25 agosto il campionato, sono date imminenti. Vicinissime, molto vicine, quindi in bocca al lupo alla squadra e speriamo bene. In Serie D conferma nel Girone F per Termoli e Isernia, un raggruppamento che si giocherà quasi interamente nelle Marche. Le due molisane affronteranno cinque abruzzesi, nove marchigiane e due laziali. Sorteggiati anche gli accoppiamenti del turno preliminare di Coppa Italia per l'Isernia, la stagione inizierà in casa contro il Teramo il 25 agosto. La vincente di questa sfida incontrerà il Termoli il primo settembre al Cannarsa. Tra i volti nuovi dell'Isernia, anche il difensore classe 2005 Paolo Francese lo abbiamo avvicinato nel ritiro. Paolo Francese è un nuovo difensore della città di Isernia, quindi fresco di firma, giovanissimo, un classe 2005, dunque al via la preparazione, sicuramente c'è tanta voglia di fare, tanto entusiasmo per questa nuova maglia che andrai ad indossare. Sì, sono molto contento di indossare i colori dell'Isernia, una grande piazza e ci metteremo subito al lavoro per affrontare al meglio il Girone che ci aspetta. Sì, sei giovanissimo, neanche ventenne, ma vanti l'ultima avventura sempre nel torneo di Serie D, un altro Girone con la maglia del Portici, c'è questo cambio di raggruppamento, ma credo l'approccio fondamentale nell'adattarti a questo nuovo campionato. Sì, sì, a Portici l'anno scorso fortunatamente ho avuto la fortuna di fare 30 presenze e spero di ripetermi quest'anno e mi metterò al servizio del mister e dei compagni per svolgere al meglio appunto quest'anno che viene. Sicuramente adesso l'impatto con il primo caldo, ma credo che dal termine della passata stagione ti sei comunque tenuto in forma. Sì, sì, comunque non mi sono mai fermato da quando appunto è finito il campionato a maggio e credo di avere una buona forma per iniziare al meglio il ritiro. Sì, penso ti sei fatto un'idea del Girone F, anche se finché non si incontrano gli altri uno un'idea precisa non può mai farla, però anche per quello che è stato il movimento della società sul mercato, che te ne è parso? So che è un girone molto arduo, quello del Girone F, e appunto il nostro pane quotidiano deve essere il lavoro per affrontare appunto meglio questo girone. Si è tenuta ieri mattina presso lo stadio di Anni di Cerro al Volturno l'amichevole in famiglia dell'Isernia. Inizialmente la società Bianco Celeste aveva in programma l'allenamento congiunto con la Casertana, poi disdetto dalla stessa società Campana, occasione utile a mister Farrocco per verificare le prime qualità del gruppo. Dopo cinque giorni di preparazione atletica svolti a Cerro al Volturno, la squadra Isernina proseguirà con il ritiro a Rocca Sicura. Ciclismo Roberto Caringi è stato il primo a tagliare il traguardo della 42esima edizione del trofeo Oratino Gran Premio Immobiliare Ciaramella. È di Roberto Caringi della SD Moreno di Biase la firma sul 42esimo trofeo ciclistico Oratino Immobiliare Ciaramella, gara riservata alla categoria allievi e organizzata dal gruppo sportivo Oratino del presidente Roberto Iuliani. L'atleta bruzzese ha preceduto sul traguardo Federico Gargiulo della Velosport Ferentino e Flavio Colaceci, portacolori del team Spezia Bike. Su un circuito tecnico di 6,6 km da ripetere otto volte per un totale di 53,2 km, i 44 corridori al via hanno dato spettacolo nonostante la pioggia che nella prima parte di gara li ha messi a dura prova. La prima fuga è stata di Francesco Arduini della Vangi Samari Campi che però è stato ripreso dopo due giri. La gara è continuata su livelli di equilibrio e molto tirata. Un quartetto composto da Gargiulo, Carnevali, Sasso e Tarallo si è staccato dal resto del gruppo ed è andato in fuga. Diversi protagonisti hanno alzato bandiera bianca. La dura salita ha fatto selezione e così nel finale sono restati Caringi e Gargiulo a giocarsi il successo. Il primo ha guadagnato qualche metro all'inizio della discesa per poi consolidare il vantaggio alle porte di Oratino sulla salita che conduce all'arrivo. Terzo, Flavio Colaceci. Quattordici sono stati i corridori che hanno tagliato la linea del traguardo. Il 42esimo trofeo ciclistico di Oratino è andato in archivio con la soddisfazione degli organizzatori che sono già proiettati all'edizione del 2025. Roberto Caringi, vincitore del 42esimo giro ciclistico di Oratino, gara tirata, l'hai spuntata nel finale? Sì, peccato per il tempo perché purtroppo si affrontò la guida in discesa soprattutto quando è bagnato. Però è un bel percorso, molto tosto. All'inizio è stata una gara molto equilibrata, poi la pioggia ci ha messo del suo. Dove hai fatto la differenza? Veramente non l'ho fatta io perché con un gruppello di 3-4 persone ce ne siamo andati in salita e abbiamo continuato a collaborare fino a quando siamo rimasti in due perché non ce la facciano più gli altri da regge il passo. Poi siamo arrivati alla fine collaborando e in discesa si sa, è così. Partendo da questa vittoria, il bilancio della tua stagione è sicuramente positivo? Sì, positivo. Domenica scorsa ho vinto e comunque sono sempre top 10. Per il futuro quali obiettivi, quali ambizioni per te? Diventare un professionista sperando che giri tutto bene. Basket di Serie A1, ottima performance della pivot della Molisana Magnolia, Pallas Kunaji nell'Exploit sul Canada, le Olimpiadi di Parigi con la sua Nigeria. La Totem Rosso-Blu ha concluso al secondo posto nel raggruppamento B grazie ai successi su Australia e Canada. La pivot nigeriana ha realizzato contro il Canada 8 punti, 7 rimbalzi e 2 assist ed è attualmente dodicesima nel ranking generale delle rimbalziste con una media di 6,7 a partita. Intanto per la Magnolia la stagione inizierà ufficialmente il 28 e 29 settembre con il 22esimo opening day. Saranno 10 le avversarie della Molisana nel prossimo campionato. Previsto un turno di riposo obbligatorio per ogni società. Calcio regionale. A proposito della mancata iscrizione della Turris al prossimo torneo d'eccellenza, viste le problematiche riscontrate sia sul fronte delle strutture che su quello economico, abbiamo raccolto le dichiarazioni dell'ex presidente a questo punto, Pasquale Marino. L'ex presidente della Turris Pasquale Marino ha intervenuto sulla mancata iscrizione della squadra al prossimo campionato di eccellenza molisana. Marino ha voluto chiarire la natura politica dell'associazione ribadendo che nessuno dei membri della società ha nutrito sentimenti di rancore nei confronti dell'amministrazione del sindaco di Santa Croce di Magliano alla quale la società ha riconsegnato il titolo lo scorso 22 luglio. Il club aveva indetto diverse riunioni di incontri pubblici, il primo dei quali lo scorso 8 luglio, per provare a tracciare un percorso per poter ripartire insieme. Come specificato dall'ex presidente, per potersi iscrivere serviva un progetto triennale perché se in questi anni la società aveva raggiunto la massima serie regionale è pur vero che mancava un settore giovanile, senza il quale il club si sarebbe presentato incompleto, non potendo garantire un ricambio generazionale all'interno della Rosa ed una possibilità concreta per i giovani atleti del territorio di potersi mettere in mostra, facendo così non solo un'esperienza sportiva ma anche sociale. Una delle principali cause che ha portato i ragazzi ed i tecnici lontani dal comune di Santa Croce di Magliano è stata l'assenza di un impianto sportivo. La dirigenza detta dell'ex presidente aveva chiesto delucidazioni al sindaco riguardo i lavori che interessavano il campo sportivo, lavori che come affermato dal primo cittadino si sarebbero conclusi entro il mese di settembre, ridando così alla squadra la possibilità di giocare in casa al Vincenzo Cosco. La dirigenza a questo punto ha evidenziato la questione economica, dichiarando di aver bisogno per la realizzazione del progetto di circa 10 persone in grado di garantire 5.000 euro ciascuno per poter permettere alla squadra di essere in condizione di affrontare tranquillamente il campionato di eccellenza. Il sindaco di Santa Croce di Magliano, sempre come dichiarato dal presidente Pasquale Marino, aveva garantito il proprio sostegno a livello economico ed un aiuto concreto nella ricerca dei singoli imprenditori e aziende in grado di sponsorizzare la squadra. Ma il quadro appena illustrato ha cambiato completamente scenario nel giro di poco tempo. Dopo diverse verifiche, dopo aver interpellato i tecnici e la ditta paltatrice, la società ha scoperto che vi era ancora una variante da firmare e un manto erboso da ordinare. Operazioni queste ultime che avrebbero richiesto più di un mese di tempo e avrebbero costretto la squadra a disputare, almeno mezza stagione, in un comune limitrofo. Un altro incontro, questa volta informale. Siamo al 20 luglio. La società in questa occasione ha chiesto al sindaco tutte le risposte del caso. Risposte evasive che hanno costretto la dirigenza a chiudere definitivamente un capitolo durato, nove anni dopo la rifondazione. Con una pecca ufficiale la società ha rimesso il titolo nelle mani del sindaco, una pecca alla quale, come dichiarato dal presidente Marino, non è seguita alcuna risposta. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Figi Cimolise, Piero Di Cristinzi, chiedendo al primo cittadino di poter iscrivere la squadra, almeno nel campionato di prima categoria. Il presidente uscente della Turris, rivolgendosi direttamente al primo cittadino di Santa Croce di Magliano, ha chiesto di agire in modo da non vanificare i tanti sacrifici fatti da tutte le persone che in questi anni hanno dato il proprio contributo per la squadra. Persone che in un paio di casi hanno dimostrato, come si legge nella nota di Marino, vicinanza politica al sindaco e a tutta l'amministrazione. Proseguono gli allenamenti al Marchese del Prete per il Venafro. La scuola affidata a Corrado Urbano sta cercando la giusta intesa per partire nel migliore dei modi. Il progetto della società è ambizioso, alte le aspettative della tiposeria. Nelle scorse ore un ex campo basso si è legato alla squadra bianconera. Si tratta del difensore Raffaele Cavallini, il classe 92, originario di Napoli, profondo conoscitore della categoria, è pronto a misurarsi in un contesto nuovo, facendo valere le sue qualità tecniche e l'esperienza acquisita negli anni. In promozione, innesto di spessore nel reparto avanzato del Baranello, in attacco è arrivato l'ex Ripa Limosani, Guglielmi. Carmine Guglielmi, ex attaccante del Ripa e neo attaccante del Baranello. Partiamo un attimo dalla stagione appena conclusa. Il tuo l'hai fatto, però troppi alti e bassi, alla fine l'obiettivo è arrivato. Sì, guarda, l'obiettivo è arrivato. Sicuramente c'è il rammarico da parte mia di averla finita comunque in quella situazione. Da infortunato non è bello, però purtroppo la cosa è stata abbastanza seria, quindi è andata anche ben oltre le aspettative mie personali. Quindi lasciare una squadra il 9 di marzo ampiamente salva, diciamo che credo di aver fatto il massimo per le mie possibilità. Probabilmente avremmo potuto fare qualcosa di più di squadra, però insomma una serie di vicissitudini non hanno fatto sì che questo potesse accadere. Però alla fine credo che è stata fatta comunque qualcosa di importante perché Ripa nel corso della sua storia calcistica, nonostante abbia altre volte guadagnato la massima serie regionale, in quest'ultima non si è mai salvata per neanche un anno. Quindi credo che abbiamo fatto qualcosa di importante e va bene così, saluto tutti con molto affetto perché mi hanno accolto a braccia aperte e credo di aver ripagato nello stesso modo. A marzo hai detto che hai subito un infortuno, possiamo dirlo, è ormai alle spalle. Sì, ormai alle spalle. Riprenderò ora dopo comunque cinque mesi di inattività, però in tutto sommato in linea generale sto bene, quindi non vedo l'ora di riprendere. Futuro si chiama Baranello, una bella piazza dove si fa bel calcio, lì è come una famiglia, siete una squadra abbastanza esperta. Sì, ripeto, da quello che so, dalle informazioni che mi ha dato Lorenzo Viglione, con il quale ho giocato e da cui sono stato anche allenato precedentemente, mi ha fatto capire dove sarei andato, quindi l'ho accettata in maniera molto volentieri la sua chiamata, quindi ora non resta che cercare di fare quello che in questo momento ci hanno chiesto già, parlo ovviamente della società. Non è facile perché il calcio è così, non è detto che riesci a raggiungere gli obiettivi che uno si prefissa all'inizio stagione, ma credo che loro da parte loro stanno cercando di fare il massimo come società per allestire una squadra di tutto rispetto, partendo dalle basi forti che sono rimaste dall'anno scorso. Conosco tantissimi ragazzi sia fuori dal campo che nel campo e questo non ti nascondo che è stato comunque quel qualcosa in più che mi ha spinto anche ad accettare questa proposta. Siete arrivati tu, Stefano Sandoro, qualcun altro arriverà. Fare meditore l'anno scorso significa salire in eccellenza, perché l'anno scorso il Baranello ha fatto un campionato forse oltre le aspettative. Sì, probabilmente loro sono andati oltre, quindi quelli che erano i piani di inizio stagione, quindi riconfermarsi lì su non è assolutamente facile. Ho visto l'organico del campionato di promozione che è un signor organico, quindi non sarà facile. Ci vorrà tanto impegno per provare a fare questo salto di categoria. Al momento si stanno muovendo nella direzione giusta e fra dieci mesi sapremo quale sarà il verdetto. L'ultima cosa, a te la squadra, il presidente, il mister, chiede quei gol pesanti, quello step in più, quell'esperienza. Sì, ma io alla fine del corso della mia carriera calcistica ho sempre ripetuto questo, io preferisco fare l'assist in più e il gol in meno che viceversa, perché non è importante chi alla fine esce sul tabellino dei marcatori, perché l'importante è sempre che la squadra vada bene e vada nel verso giusto. Quindi è normale che da uno come me si aspettano quell'esperienza e quella qualità, perché ormai a 40 anni solo quella puoi dare e non puoi dare di certo sotto il profilo atletico quello che ti danno i ragazzini di 20 anni. Per quanto riguarda quello io cercherò di fare il massimo delle mie possibilità. Poi dopo devono essere bravi loro a trovare chi aiuta me e altri come me per quanto riguarda altre caratteristiche che al momento ormai sono andate a decadere. Io la vedo così e anche loro sanno benissimo questo, a cosa vanno incontro. Speriamo che vada tutto nel verso giusto e alla fine di questi dieci mesi insieme potremo gioire o quantomeno dire abbiamo fatto il massimo e tirare le somme in maniera molto tranquilla. Si terrà sabato prossimo 10 agosto presso lo stadio comunale Mario Di Anni di Cerro al Volturno la terza edizione del Memorial dedicato a Luigi Mazzocco conosciuto e ricordato da tutti come Gigino, storico presidente della Cerrese prima dell'Isernia, poi oltre che un grande imprenditore. nel segno della continuità con le precedenti edizioni la famiglia Mazzocco ha organizzato il consueto torneo calcistico. Si inizierà alle 17.30 in campo le vecchie e nuove glorie a seguire con calcio d'inizio alle 20.30. Si sfideranno l'Isernia e la Esernia fraterna, le due compagini che attualmente esprimono il massimo livello del calcio nel capologo di provincia. Si è concluso a Limosano il Coste del Lago, tanta la soddisfazione espressa dagli organizzatori per l'ottima riuscita del torneo. Romeo Fagnano, ti vediamo col volto disteso, rilassato, dopo un mese di torneo, insomma c'è stato questo epilogo bellissimo, c'è stato un spettacolo pre-partita davvero fantastico, la gente è rimasta veramente entusiasmata e questo poi diciamo è la parte più bella per chi organizza. Sì, assolutamente sì, l'obiettivo era all'inizio quando abbiamo come ogni anno organizzato il torneo abbiamo pensato che quest'anno volevamo emozionare e lo spettacolo della finale doveva emozionare, lo spettacolo con i fuochi, l'ingresso in campo del pallone con il drone, diciamo tutto studiato con l'aiuto di Davide che è molto ingegnoso al riguardo e diciamo l'obiettivo era proprio quello di far vivere uno spettacolo pre-partita a tutti coloro che hanno preso parte, abbiamo visto che gli spalti erano cremiti, la gente ha risposto in maniera molto positiva ed è questo quello che ci interessava, l'obiettivo principale era questo. Assolutamente, insomma poi avete creato un bel indotto perché tante attività commerciali sopra che stanno lavorando, quindi insomma c'è anche un risvolto non solo calcistico da un punto di vista lo spettacolo ma anche poi dare una mano al paese che poi è anche l'obiettivo principale di voi e delle vostre associazioni. Assolutamente, allora noi facciamo questo torneo per vivere il paese, il torneo viene fatto con squadre del paese, c'è la collaborazione di altri ragazzi che comunque conosciamo dell'Interland di Campobasso, di altri paesi limitrofi, però l'Intendo nasce per far vivere al paese di Limosano un mese di luglio diciamo ricco di attività e di emozioni. Le attività che abbiamo coinvolto le abbiamo coinvolte proprio con il piacere e con l'intento di dare lustro a quella che è la manifestazione e di dare supporto appunto a quello che era lo spettacolo che abbiamo messo su per la finale. Vi conosco, insomma siete dei vulcani, tu Davide so che già state pensando alla decima edizione, nove edizioni insomma fatte, realizzate, sono tante perché è facile iniziare, è difficile e continuare, soprattutto continuare con qualità. Ogni anno siete riusciti ad aggiungere un tassello, questo sicuramente è importante e poi insomma siete persone che quando alzano il telefono siete rispettate proprio perché anche voi insomma vivete il territorio, quando organizzano i tornelli le altre persone siete sempre presenti e questo sicuramente è una nota di merito per te e per tutta l'organizzazione. Io ti ringrazio, quello che posso dire è che termina la non edizione, ci accingiamo alla decima, quando parliamo di non e di decima parliamo di tornei organizzati da questa associazione, da questa attività, però va dato merito ad altri compaesani che da dieci anni prima portavano avanti il torneo, un torneo che ha oltre 20 anni di attività, 25 anni di attività, si è tramandato tra i vari ragazzi del paese, quindi è un torneo storico, credo che in Molise veramente se ne continuano pochi a livello di anzianità come questo. Assolutamente sì, possiamo serenamente confermare che l'anno prossimo ci saranno ulteriori novità, però sì diciamo questo è un gruppo di ragazzi che tra mille impegni personali e non comunque dà tutto per ottenere questo risultato, alla fine quello che facciamo lo facciamo con lo scopo di emozionare, di divertire, di stare bene anche noi insieme. Quando è iniziata la partita e ci siamo radunati eravamo contentissimi tutti perché la gente ci faceva i complimenti, quindi alla fine è questo quello che più di ogni altra cosa ci gratifica. Per gli appuntamenti vi ricordiamo che domani sera a Mirabello Sannitico in piazza Verdone si terrà la sagra della soppressata organizzata dal salomificio Luisi, un evento che si rinnova da diversi anni, sempre con grandissimo successo, una serata all'insegna del buon cibo, allietata con musica dal vivo. E sabato prossimo i New Devils, ricordate il famoso gruppo Campobassano della fine degli anni 60, inizi 70, i Devils che lanciarono anche un disco dal titolo Riflessa, una canzone che è rimasta un po' veramente negli annuari della musica molisana, ebbene i New Devils che sono il nuovo gruppo che si è formato, saranno in concerto in piazza Doratino per rivivere insieme e riascoltare le storiche canzoni del gruppo e non solo. Questa formazione è nata praticamente da un'idea di Gigi Pesce che faceva parte del complesso storico dei Devils, una serata all'insegna della buona musica che ha caratterizzato gli anni 60-70. Appuntamento alle 21.30 sabato prossimo a Doratino. Bene, è tutto, buon pomeriggio. Grazie. Grazie.